Buongiorno, volevo confrontarmi con voi perché io da qualche giorno che veramente non riesco a capire cosa succede nella testa di Alpuri. Cervina, una località che è riconosciuta della Valle d'Aosto, una località sciistica molto renomata, una delle eccellenze del nostro turismo in Italia. Ma udite, udite, hanno pensato bene di cambiare il nome, di chiamarla le Braille, manco mi ricordo. Ma io voglio dire, ma siete matti? Ma voi sapete quanto tempo ci vuole a costruire una destination, una brand reputation? E voi fate una roba del genere? Ma ripensateci! E voi che cosa ne pensate?